Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram! David Beckham è forse uno dei personaggi più amati al mondo. Le donne impazziscono per lui e gli uomini vorrebbero una vita di successo come la sua. Bello, ricco, fortissimo a giocare a calcio e apprezzato dal genere femminile. Esiste qualcosa di più maschile al mondo di questo? Credo proprio di no. David non sarà più un calciatore di professione, ma in vita sua ne ha viste e sentiteli tutti i colori. Vediamo di raccogliere i momenti e le curiosità più divertenti inerenti allo Spice Boy. Io sono Luca e queste sono le cose che non sai su David Beckham. Conosciamo tutti Victoria Beckham, giusto? Se qualcuno ha risposto o no, è invitato a uscire da questo video. Grazie. Scherzi a parte, David e Vicky sono una delle coppie più amate e belle presenti su questa aria da terra che chiamiamo Globo Terraqueo. Sposati dal 99, 4 figli e oltre 200 milioni di patrimonio stimato. Questo nel 2012, quindi sicuramente ad oggi sono anche più soldi. Eppure non è tutto oro ciò che luccica, o almeno secondo i bookmakers inglesi. Infatti da qualche anno è possibile scommettere sullo scioglimento della coppia. Ormai abbiamo raggiunto livelli allucinanti, possiamo addirittura scommettere sullo sbarco degli alieni sul nostro pianeta. Recentemente però, la quota e la scommessa sono state bloccate. Probabilmente per paura che questo possa avvenire davvero. Per darvi un'idea della situazione, no? Quando Cristiano Ronaldo l'anno scorso arrivò a Juventus, qualche giorno prima dell'ufficialità, fu ovviamente bloccata la scommessa, in modo da poter pagare soltanto quelli che avevano già pagato. Una cosa che stava per concretizzarsi. E a proposito di Cristiano Ronaldo, ovviamente vi ricordo il video sulle sue curiosità. C'è ancora una, avete visto. Eppure i profili social dei due fanno intendere che in paradiso di problemi per il momento non ce ne sono. David, eletto uomo più sexy del mondo nel 2015, è vittima di un'altra scommessa, e cioè di chi potrebbe essere la sua futura consorte, in caso di litigio e comunque separazione dalla moglie. Jennifer Aniston, Angelina Jolie e Catherine Jenkins sono le puntate più basse in assoluto, mentre la più alta appartiene a Rebecca Luce, ex fiamma dell'inglese, ai tempi del Manchester United. Io personalmente ho un debole per l'Aniston, quindi in caso tifo per lei. Forza Rachel! Altra curiosità legata alla coppia. I Beckham, infatti, abitano a Londra, in una villa denominata, Beckingham Palace. Nessun errore, non mi riferisco alla casa della regina, ma alla modesta e discreta catapecchia dei coni di Beckham. Il gioco di parole però bisogna ammetterlo, è divertentissimo e tantissimi curiosi fotografano la baracca ogni giorno. Ok, ora la pianto di sminuire Beckingham Palace, ma soltanto perché la curiosità sta nel fatto che... Il valore dell'immobile da solo è di 38 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 9 milioni di euro per il restauro effettuato in questi anni. Acquistata nel settembre del 2013 può vantare la presenza di 7 bagni, una palestra, una piscina, una cantina per i vini e addirittura una macchinetta da caffè da 3.000 euro. Ma perché il caffè lo farà uguale a quella che c'è a casa mia e l'avrò pagata a 70? Probabilmente se fosse mia non uscirei mai dai confini di quella proprietà, c'è tutto quello che serve per essere felici e contenti. Appena avrò i miei 47 milioni di euro da spendere ne farò uno uguale, potete contarci. Ultima curiosità inerente alla coppia, poi passiamo al solo David. Victoria lo scorso settembre ha festeggiato i 10 anni di carriera da stilista, quindi tanti auguri. Ora come ora è entrata nell'olimpo della moda, ma all'inizio una curiosità inerente al marito ha fatto storcere il naso a diverse persone. Il modello infatti è stato addirittura bandito dalle sfilate della moglie, al pari di tutta l'intera famiglia Beckham. Ma che crudeltà, ma che donna senza cuore per fare qualcosa del genere ai suoi cari. Il motivo è logico, comprensibile, condivisibile. Victoria voleva focalizzare l'attenzione solo su quel prodotto, lasciando all'esterno tutto quello che non gli competeva. La sua famiglia e la sua carriera da cantante sono sicuramente pezzi importantissimi della sua vita, ma in quel momento il risalto dovevano esserci le sue creazioni da stilista, nient'altro. Sicuramente un pensiero nobile, ma probabilmente non efficace, dato che durante i primi anni da stilista il brand ha perso qualcosa come 12 milioni di sterline. Ora tutto è sistemato, Victoria sicuramente è rientrata anche delle perdite, e la famiglia Beckham può nuovamente andare agli eventi come testimonia della loro presenza all'ultima Fashion Week, dove Victoria ha festeggiato appunto i dieci anni di carriera. Oh, meno male, tutto è bene, ciò che finisce bene. David soffre di una leggera e comune forma di disturbo ossessivo compulsivo. Niente di grave, ma tra le altre cose ha raccontato di essere stato turbato dal comportamento dei suoi compagni di spogliatoio durante i suoi anni da calciatore. Immaginate un po', voi entrate in questa stanza e vedete accappatoi, calze sporche, magliette, pantaloncini, shampoo, e chi più ne ha più ne metta dappertutto, che volano, offese, piselli, bleh. Altra curiosità, a casa sua possiede ben tre frigoriferi, uno per il cibo, uno per i drink e uno per le insalate. E pensare che a me la verdura neanche piace, beh. Non solo perché il disturbo lo porta a soffrire di due malattie in particolare, ataxofobia e ornitofobia, cioè la paura del caos e la paura degli uccelli. Inoltre anche il suo fisico è stato segnato per sempre per questo motivo. A quanto pare David è innamorato del dolore che provoca l'ago sulla sua pelle, ed è per questo che vuole sempre aumentare l'inchiostro presente sul suo corpo. Io per il momento sono disordinato, ho solo due tatuaggi e la verdura non mi piace, quindi direi che posso stare tranquillo. Inoltre gli uccelli non mi spaventano, credo. Terminiamo infine con un aneddoto calcistico di quelli che piacciono a me. È il 1999 Stadio Camp Nou di Barcellona e si sta per disputare una delle più belle partite di sempre. Una delle più clamorose di tutta la storia del calcio è Manchester United contro Bayern Monaco. È la finale di Coppa dei Campioni, quindi sicuramente non è un amichevole. I tedeschi si portano subito avanti in una punizione di Basel, beffa Peter Schmeichel sul suo palo. Le due fazioni danno spettacolo da una parte e dall'altra. Il Manchester prova a riaprirla e il Bayern si difende molto bene. E infatti il primo tempo finisce così, 1-0 per i bavaresi. Il clima è rovente, ma ci si sta giocando anche la storia, perché il Manchester vincendo otterrebbe il triplete. Il Bayern Monaco quasi, perché è anche in finale di Coppa di Lega e deve vincere anche quella dopo. Sir Alex Ferguson quindi prova il tutto per tutto, inserendo gli attancati in Sherry Gunn e Solskjaer, attuale tecnico del Manchester United. Non vorrei spoilerare troppo su questi due cambi, quindi vado avanti. La partita però vede un Bayern sfortunatissimo. Prima un palo su pallonetto e poi una traversa su una rovesciata, ma dai, in finale no. Pierluigi Collina, arbitro dell'incontro, chiama i minuti di recupero. Sono solamente tre. Al minuto 91 però il Manchester United riesce a segnare. Anche Schmeichel si era portato in area di rigore, ormai non c'era più niente da perdere. Il Bayern prova ad allontanare, Giggs ci prova dalla distanza e ne esce una ciofeca. La palla però finisce esattamente sul piede destro di Tetti, Sheringham cresce a imbucare e ristabilire il punteggio di 1-1. Due minuti solo al termine, ma la partita non vuole saperne di finire. Minuto 93, ultimo giro di orologio, altro corner. 10 giocatori del Bayern a marcare in area, più l'undicesimo Oliver Kahn tra i pali a proteggere. Il cross arriva ancora una volta a Sheringham, che riesce a prolungare, e becca solo schierliberissimo nell'area piccola. In girata, rapido, reciprocare ancora il portiere tedesco a regalare il 2-1 agli inglesi. E finirà così? Coppa in Inghilterra, tripleta al Manchester. Pazzesco, davvero, ma David Beckham in tutto questo che cosa c'entra? Ebbene, la storica rimonta parte tutta. Dal suo piede destro fatato. Entrambi gli angoli, infatti, sono stati battuti dal numero 7, che probabilmente ricorda ancora con amore quella magica nottata. In Spagna si trasferirà poi nel 2003, però a Real Madrid. Bizzarro, perché a 12 anni vinse il Bobby Charlton Skills Award e se allenò per ben due settimane con il Barcellona, proprio al Camp Nou. Il destino, ogni tanto, se sarebbe fardo. E queste erano soltanto alcune delle curiosità, o comunque degli aneddoti più divertenti su David Beckham. Ce n'è un altro extra, ma non ve lo racconto qua, ma sul mio profilo Instagram. Quindi seguitemi anche lì e andate a vedere, perché c'è qualcosa di veramente una chicca, una chicca. E se volete altri video come questo inerenti a leggende del calcio mondiale, non vi resta altro da fare che lasciare 2000 like, perché a 2000 like ve ne porto un altro, garantito. Sapevate un po' tutte queste cose? Se sì, bravi voi. Se no, invece vi chiedo di lasciarmi un commento per suggerirmene altre. Ai commenti migliori, tra l'altro, rispondo sempre. Quindi non vergognatevi. Io sono Luca, e queste erano le cose che non sai su David Beckham. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.